Essere collaborativi per noi è bello, collaborare è bello, fare le cose insieme è bello e realizzare cose insieme ti rende più forte, ti rende più intelligente, ti rende più creativo. Però noi sappiamo anche che la stragrande maggioranza delle organizzazioni, la stragrande maggioranza di tutto ciò che è organizzazione sociale in questo mondo non è orizzontale, non è collaborativo, è piramidale. La piramide piace a tutti, ne abbiamo già parlato ma ci viene in mente di parlarne anche in questo ambiente, perché se ci ricordate al montagna, allora la montagna ti fa venire in mente subito. E certo, un modello piramidale sembra una soluzione a tutti i problemi, perché c'è la piramide e quindi c'è la crescita, tu parti a sotto ed è bello scalarla, no? Fare carriera, sapere che poco per volta stai salendo. Ogni giorno sei un pochino più in alto del giorno prima, ogni sei mesi sei un pochino più su di dove eri prima e alla fine sei al vertice. Oppure puoi essere sotto, non ti preoccuparti di niente. Però quello che vi volevamo dire oggi è che chiamare modello piramidale il modello piramidale è un imbroglio, non è vero, non è vero. Se fosse così sarebbe persino equo, ma il modello piramidale non è fatto piramide. Voi lo chiamate piramidale ma non è per niente la piramide, in realtà è fatto così. E' tutt'altro. Quando tu sei qui e inizia a salire, lo fai molto in fretta, perché il passino sopra, il livello sopra, è ancora molto largo. Ma man mano che tu sali verso il vertice, le possibilità di crescita si riducono enormemente. Non è una piramide, è un imbuto, è una struttura fatta in maniera totalmente differente. Ci sono poche posizioni di vertice e tante posizioni alla base. Quindi se vi piace il modello piramidale perché pensate che sia bello far carriera, bene sappiate che c'è tanta base e poco vertice. E' veramente così bello il modello piramidale.